Oggi siamo in compagnia del professor Silvio Vismara, uno dei sette ricercatori dell'Università di Bergamo, inserito nella classifica mondiale degli scienziati con il livello più elevato di produttività scientifica. La classifica è elaborata dall'Università di Stanford e pubblicata su prestigiosi riviste scientifiche, tra cui PLAS, si basa sull'autorevolezza scientifica dei lavori pubblicati dai ricercatori universitari di tutto il mondo. Il professor Vismara, che attualmente insegna finanza aziendale all'Università di Bergamo, fa parte di quel 2% dei migliori ricercatori al mondo. Professore, qual è il suo ambito di ricerca? Grazie, buongiorno. Io mi occupo di finanza aziendale, in particolare come ricerca sono focalizzato sulla finanza imprenditoriale e sulla finanza digitale, ovvero dare finanziamento a chi idei di creare impresa. Da che cosa ha cominciato e qual è il suo percorso accademico? Io sono un ingegnere gestionale, ho lavorato in borsa italiana e poi ho iniziato un dottorato sul finanziamento di impresa, che vuol dire che in prima istanza mi sono occupato di quotazione di impresa, man mano un po' allargato lo spettro, in particolare recentemente, recentemente intendo negli ultimi 10 anni gli strumenti della finanza digitale. Come percorso sono cresciuto dell'Università di Bergamo con tante possibilità e opportunità di viaggiare. Cito alcuni paesi dove ho fatto ricerca o didattiche in modo continuativo almeno per un semestre, Belgio, Spagna, Ghilterra, Stati Uniti, Germania, sono tutti i paesi dove sono stato almeno sei mesi come docente. Partendo sempre da Bergamo, non è serurato a Bergamo? Io sì, io sono di Bergamo, sono cittadino di Bergamo, sono cresciuto qui, ho sempre studiato qui, sia il percorso di studi che poi il dottorato e poi nel corso della caniera, quindi più di 20 anni, ho avuto dell'opportunità di collaborazione e quindi per quanto non abbia mai lasciato l'Università di Bergamo, qui sono veramente molto legato, ho avuto l'opportunità di fare un semestre a Bergamo, un semestre all'estero e ho girato tanto. Più o meno ogni anno, con qualche eccezione, dai 25 ai 35 anni più o meno sono sempre stato in visiting in qualche università estera. Che cosa significa essere nel top 2% scientific in the world? È un bel riconoscimento, nel senso che significa essere sulla frontiera, come dire, della ricerca nel proprio ambito e questo credo sia un bel riconoscimento, per me di sicuro, ma posso estendere anche all'Università di Bergamo, nel senso che riconosce che in più ambiti è in grado di offrire un livello davvero avanzato e di frontiera, tale da poter mettere in contatto, come dire, i ricercatori o gli studenti su quelle tematiche in una prospettiva internazionale con i migliori ricercatori barra università al mondo. C'è un progetto in particolare su cui sta lavorando ora? Sì, allora, come dicevo, adesso tanto vado sulla finanza digitale che ha un potenziale di democratizzazione, nel senso che se tipicamente magari le fonti capitali, supponiamo io ho un'idea imprenditoriale, non ho i mezzi per partire, qualcuno deve unirsi alla mia squadra finanziandomi. La finanza digitale permette che la platea di possibili investitori sia più eterogenea e se la platea di investitori è più eterogenea, anche la platea di possibili imprenditori o persone che portano avanti la propria idea innovativa, sia diversificata. È un concetto di omofilia, nel senso che banalmente categorie tipicamente sotto rappresentate che possono essere questioni di genere, di etnia, ma anche di età, è ampio il discorso. Se tra i possibili finanziatori c'è per esempio una sovrappresentazione di maschi bianchi, anche l'atto imprenditoriale questo può essere un effetto. Se invece tra gli investitori c'è una maggiore diversità e eterogeneità, anche sul lato dei progetti finanziati ci si aspetta che questo si faccia sentire. La finanza digitale di per sé disintermedia a tante cose, decentralizza e quindi sta aumentando. Prostalmente, come dire, dieci anni fa se noi adesso incontravamo un ragazzo che aveva una bella idea, volevamo finanziarlo, c'erano alcuni passaggi da fare. Adesso con la finanza digitale è molto più facile. Se io e lei vogliamo finanziare un'idea che ci piace di un gruppo di ragazzi che secondo noi sono promettenti, oggi pomeriggio lo possiamo fare e non siamo vincolati da tante cose, anche geograficamente. Quindi anche chi magari è in una località che è meno interconnessa, come dire, con i canali di finanziamento tradizionali ha più opportunità. e questo è il tema su cui sto ragionando in modo più forte ultimamente. Quali sono le difficoltà maggiori che si incontrano nel fare ricerca e come si superano? Allora, le difficoltà possono essere di vario tipo, da un punto di vista metodologico. Insomma, per arrivare a certi livelli bisogna essere completi, vuol dire avere delle idee belle ma avere anche gli strumenti per analizzarle in un certo modo, quindi dimostrare che l'idea che si è avuto è valida e sostanziata nel mio ambito dai dati, dai fatti, dalle misure. Questo vuol dire un investimento anche da un punto di vista proprio metodologico, quindi gli strumenti matematici o di vario tipo che possono essere utili. Come si supera? Io credo che sia la curiosità, l'elemento più forte, nel senso che se tu vuoi capire bene è quello che dovrebbe spingere un giovane a fascinarsi alla ricerca. Cioè, una questione, man mano la studi parossalmente minore certezze hai, nel senso che capisci che in realtà quello che ti sembrava un percorso semplice, in realtà ci sono dei motivi per cui così semplice non è, però se hai una curiosità nel capire, il mondo è lo stimolo per superare eventuali difficoltà. Che consiglio si sentirebbe di dare a un giovane o a una giovane ricercatore-ricercatrice? È connesso a questo, di essere curiosi, nel senso che se c'è una caratteristica in un ricercatore secondo me è quello. Io ho avuto un percorso, credo di successo in termini di ricerca, cambiando anche la prospettiva di approcci, quindi magari leggendo tanto di alcuni tipi di letterature ho assorbito degli approcci che mi sono stati utili in altri ambiti. Quindi leggere molto, la curiosità è importante. Per certi aspetti, se posso anche una provocazione o una curiosità, un po' darsela a pagare la mediocrità, nel senso che quando tu leggi tanto di varie cose, magari non eccelli nessuna, però ti dà chiavi di lettura. Se posso citare Wittgenstein, i confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo e più linguaggi mi appassiono e mi incuriosiscono, più chiavi di lettura ho e più forte riesco a aprire. La ricerca in questo è fenomenale, nel dare sfogo a questi tipi di curiosità. Bene, grazie mille.